Orfandi my baguette Me? E il giudice che ha detto? Eh, ha detto il giudice che voglio il riassunto Riassunto Che c'è così? Con che cos'è? Il mio figlio è riassunto Non ho capito Mio figlio è stato licenziato Me? E poi l'hanno riassunto E quindi il giudice vuole il mio figlio Ha detto che vuole il riassunto dentro le 12 Non può bene, staffo, sta in montagna Famiglia, approfittiamo Questo non rogni